Allora, qui c'è la... volevamo mostrarvi i nostri polini. Vabbè, sono arrivati i 10 attimo. Allora, questa è nuova, Pinkie Pie. Pinkie Pie con la fashion, è bellissima. Poi, allora, questi sono miei. Qui c'è questa. Che sono nuovi. Sì, questi comprati al trenino dei desideri. Anche se ve li abbiamo mostrati dell'altra volta, sono miei, perché quelli erano di mia atteggione. E questa non ve l'avevo mostrata. Poi, vi faremo vedere di nuovo i stessi polini, in un certo ordine di scatole. Questa è uscita da sola. Sì, e facciamo vedere anche gli oggetti che sono rimasti un po' dentro. Allora, qui c'è il suo bel cappello. Il suo cappello azzurro e il suo cappello giallo, che sono uscite varie giamme, ma adesso ve lo faccio a casa. Qui, questa è la pasticceria, che è uscita con il ventolino, varie cose. Sì, è anche conosciuto. Sì, è uscita con il ventolino, per metterlo allo zocco. E va bene. Poi cerchiamo questo video di farlo un po' breve, non come l'altra volta. Poi, queste sono state insieme, e poi questo. Io vi dico i nomi, tanto che lei li mette in ordine. Lirica Lilla, questa è lirica Lilla. Con la rosa e la culata. Sì, che sono uscite in zona. Poi ci sarebbe anche il shime in armo, però... Sì, dovrebbe avere tutto. Perché avete notato che questo ha gli zoccoli blu e l'altro del castello glielo ho regalato, perché ce l'avevo in dubbio. Andai. Poi, questa è pasticcina, che la chiamiamo pasticcina, perché esce sempre come dalle scatole dei pasticcini, che è kid. Qui c'è che Ede, o chiade, se io la metto a chiamare. In inglese si dice più che Ede, se in italiano, con il suo scudo. E lei ha il cuore di castello, che è da su. Qui c'è la ricetta di Chiara, con il suo pezzino di una ricordina. C'è anche la coroncina di testa. Che, naturalmente, lei aveva una coroncina, però l'altra, una volta, quando sono andata a un ristorante, l'ho persa. Ma, fatta di cartone. Poi, qui c'è Scutalù, senza Qutimark. Scutalù, senza Qutimark, che è uscita con Sweetie Bellea. Apple Bloom, che adesso ve le facciamo vedere. Sì, ha le sue ali mini, non credevo che queste ali fossero così mini. Sì, fanno, allora, qui c'è, poi Sweetie Belle, un po' spettinata, ma bella. Sweetie Bellea, col cordo. Praticamente fanno l'ordine. Lei ha le ali come Reymodash e lei ha il cordo come Rarity. Apple Bloom, che adesso ve la cerco, eccola. È come Applejack, senza niente. No? Chi sono uscite quelle del matrimonio? Allora, infatti lei è spesso da qui. Ok, Applejack facciamola vedere. Allora, le mettiamo dietro. E poi, per esempio, Applejack con le sue belle mie. Sì, che abbiamo fatto gli adattitudini, perché non è cartone, ce l'ha. Sì. Poi, allora, le abbiamo rari, che è molto bloccata, che è bella. Ok. Così, con il suo ventrimark e le gemme che ci mancanza. E Reymodash, che dovrebbe essere un'amica di Sputaluma, non lo essere, non so più. E lei, ma sono molto amiche, insomma, perché... Dalla cor... Allora, questa è normale, con la sua bellezza. Come alina, con le aline. Questa, invece, si muovono le ali, che l'abbiamo trovata nel castello, con le ali aggisite. Tutto, non lo so. Si vedono, vabbè. Ora, capisco. Adesso la vediamo, perché non è inquadrata, è uscita insieme a Carrie Berry. Veramente non è uscita insieme a Carrie Berry, perché io l'ho ordinato da in te. Però ci dovrebbe essere un attacco, che ora non mi metto. Noi, qui abbiamo Sunset Shimmer, che la maschera ce l'ho a casa mia. E oggi. Non sembra fuoco, più che il sole. Si, il sole fuoco, qualcosa del genere. Sì, vabbè. Qui c'è il prezzo di Luna, si chiama Infatti Luna, perché... Vediamo il QT Mark della Luna. Ok, va bene così. E la mettiamo qua. Ah, che è uscita insieme a Rarity? Però lo lasciamo sempre insieme a Sweetie Belle. Si, perché è sua sorella. Qui c'è Plomet, che gli si è sciolta la treccia, fantastico, che ci ho messo due ore a fargliela. Ah, il suo principiante del cuore? Dove è finito? Ah, con Pinkie Pie Fashion è uscito anche sto pettine che è fashion. Ah, è qui quello che tiene l'attreccia. Adesso ve lo facciamo vedere. Aspetta. Ecco, questo è un'altra cosa. Ok. Cuoricino. E vabbè. Che è uscita con Twilight Sparkle, che ora noi l'abbiamo pitturata. Che sarebbe la cugina. Che c'è. E con la doppia c'è l'occasione. Che sarebbe la cugina di Twilight. Che le abbiamo fatto di QT Mark, una specie di coso che afferra la roba. Che mette così, con tutta la cugina. Che la chiamiamo Emily, come ha fatto certe volte su internet, in un episodio della scuola. Che c'è l'occasione. che sarebbe uscita. Aspetta, piccola e quella e quella grande. Sì, poi c'è Flattashire. Che sarebbe uscita con l'elicottero. Però abbiamo, no, siamo un attimo. Non ce la basta da fare. Che con Pinkie Pie abbiamo, nella valigia, abbiamo trovato la sua valigetta. Aprila un attimo, Greta, per piacere. Aspetta, che è un po' dura. Che era piena di foglie. Ah, sì, perché una volta giocavo alla scuola e allora ho fatto le verifiche ed era piena di foglie. Adesso, se ti dispiace darmela, così la faccio inquadrare. Aperta. Così. Dentro è tutta arancione e dentro c'è messo dei foglietti. Che, adesso, prendiamo Pinkie Pie. Ah, qui c'è l'adesivo di Pinkie Pie. E prova a mettergliela allo zocco. Aspetta, sei un po' allargato. C'è un po' qui. Vabbè. E così. E adesso vediamo l'immagine della valigetta veloce, perché dobbiamo fare un film veloce. E ora solo di 7 minuti a 27. Vabbè. Poi, come previsto, abbiamo... Abbiamo Fluttershy. E' uscita con la vasca al lavaio. Però, con l'altra. Ora, vi faccio vedere un po' all'in speciale, che l'avevo fatto vedere anche l'altra volta. Ecco. Ricorda. Se vedete un po' si è illuminato io, la dobbiamo mettere a prima con la luce. Ok. Proviamo ad andare un attimo in camera. E vabbè. Vabbè. Adesso non l'abbiamo a passare. E questo ha chiudi, ma non so che cosa. Un aspetto di sole. Vabbè. E ci sono i suoi anelli. Questo è uscito con Scooteroo. Adesso vi facciamo vedere tutti gli oggetti, perché se no, Scooteroo... E questo è molto uscito. Vi fa vedere da qui. Ah, questo è uscito con Rainbow Dash. Però non con la Tina. Con l'altra Rainbow Dash che ora ho. Questo non mi è uscito, ma... Ma no, però è uscito con Scooteroo. Ah, sì. Adesso vi faremo vedere tutti gli oggetti che ci sono mangiati, perché... Ah, questo è uscito con Miss Case e Twirli. Naturalmente... Sono di lei. E queste due sono le mie. Un po' di capelli un po' più disordinati. Come si fa a metterlo, non l'avrà capito, ma vabbè. Questo cerchietto esce con Scooteroo. Sì, ora glielo mettiamo con i fiorellini molto carini. Però adesso vi dobbiamo salutare, perché... Sì, proprio così. Aspetta, qui c'è una roba da... Ah, questo è uscito con Twilight e come lo metto? Così sono gli zoccoli. Questo lo uso come skateboard per Scooteroo. O come per Rainbow Dash. Per Scooteroo o per Rainbow Dash, in questo caso. Che non c'entra niente con i poni. Vedete? Così lo usiamo. Allora, adesso questo è uscito con Castello. E questo è uscito con Pinkie Pie. Ah, è l'elicottero. Mettiamo con Pinkie Pie. Aspettate un secondo che si è uscito. Questo. Mettiamo anche Zecora con gli altri. Che è uscita da sola senza nessuno. Qui c'è la valigetta. Con Pinkie Pie e Rainbow Dash, Twilight Sparkle, come l'altra volta che c'è scritto I My Friend Dash, che non sappiamo cosa vuol dire. Dietro c'è scritto che scrive il nome, la classe, bla bla bla. Ah, io so, perché c'è scritto che I Love My Friends. Io amo i miei amici. Ah, ok. C'è scritto quello perché lei mi guarda e io lo vedo in testa. Allora, adesso facciamo un rapido giro. E diciamo che dice... Beh, ciao vi dobbiamo salutare. Ciao. Adesso vado a salutare Cannotina. Sì. Ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.